Caldo e siccità insieme alle emissioni da carburanti fossili hanno aumentato le concentrazioni di polveri sottili e di ozono in Piemonte. Lo dicono i dati 2015 di ARPA e Regione sullo stato dell'ambiente. Laura De Donato. È il cambiamento climatico il protagonista dell'ultimo rapporto sullo stato dell'ambiente in Piemonte presentato dall'ARPA sui dati 2015. C'è un'inversione di tendenza nei superamenti dei limiti giornalieri di legge rispetto agli ultimi 12 anni delle polveri sottili PM10, costituite di particelle con diametro entro i 10 micron. E anche le concentrazioni di ozono sono aumentate nell'anno più caldo per il Piemonte dal 1958. I tempi sono stretti, stiamo lavorando allacremente per fornire per esempio tutto il supporto tecnico scientifico come ARPA alla Regione per porre in essere il piano sulla qualità dell'aria. Al fianco di caldo e siccità che hanno ridotto la portata di molti corsi d'acqua e reso il territorio più vulnerabile all'alternanza di fenomeni atmosferici estremi e repentini, i trasporti, l'aumento delle combustioni da biomasse, caminetti e stufe domestiche e le attività agricole hanno favorito la concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti. C'è un lavoro da fare che parte dai comportamenti singoli, quindi dal coinvolgimento nelle buone pratiche dei cittadini perché le componenti principali sono quelle degli scarichi in atmosfera residenziali, ma anche quello del trasporto, ma anche fare interventi strutturali sulle missioni industriali.